ciao ragazzi è arrivata finalmente la scherina l'fc almeno credo sia lei se non è lei ci faccio una figuraccia si dovrebbe essere lei lo facevo più grande il giro tagliamo ok per il download del manuale proprio bellina ma questo è l'esca carina fuori mini E poi Questa è l'FC È proprio piccola Non pensavo più Più mastodontica Ok, allora Bello questo XT60 Un bel condensatore ciccio Tutto ciò che mi interessa Cavetteria varia Ah, con già anche i I carri resti vintenti Bene, bene Stiamo sentendo là sotto Un bel condensatore colore bene siamo pronti allora per procedere con il nostro progettino per questo video è tutto una buona giornata ciao